In Giappone spopolano le K-Car, auto molto piccole e compatte con una cilindrata ridotta a 650 cm3 che in questo modo non devono avere il garage e hanno tutta una serie di agevolazioni fiscali. Ovviamente non sono importate in Europa. Sembra però che Suzuki ci stia facendo un pensierino e lo dimostra qui a Salone di Tokyo con questa curiosa Cross B, un'auto che è derivata dalla Hustler, appunto una K-Car molto popolare qui in Giappone ma con dimensioni un po' più abbondanti. La Hustler infatti è lunga 3,50 m mentre questa Cross B raggiunge i 3,76 m. Mantiene però quello sguardo simpatico, tipico proprio delle K-Car giapponesi con i due fari tondi anteriori e quelle forme squadrate che garantiscono dimensioni esterne molto molto compatte ma grande abitabilità interna. Questa versione diciamo big, vitaminizzata di una K-Car lascia pensare che Suzuki stia pensando in qualche modo di importare questa Cross B anche in Europa e quindi anche in Italia, anche se al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. Interessante però anche il powertrain che riprende una tecnologia che noi abbiamo già visto, sperimentato e provato più volte a bordo delle Suzuki più moderne che è appunto quella mild hybrid, vedete la scritta hybrid sulla fiancata. Qui c'è un mille tre cilindri turbo iniezione diretta di ultima generazione, sempre sviluppato da Suzuki ma abbinato a un piccolo motore elettrico con una potenza di circa 3 cavalli che aiuta nelle ripartenze. Non si viaggia mai soltanto in elettrico perché è appunto una tecnologia mild ma questo aiuta a contenere i consumi. Suzuki dice nell'ordine del 10-15%. La Cross B sarà realtà anche in Italia, bisognerà aspettare ancora qualche mese per scoprirlo. Intanto fateci sapere nei commenti qui sotto se anche voi vorreste vedere in Europa una K-Car vitaminizzata. Alla prossima auto!